Cecilia Rodriguez non LH ha presa per niente bene Cecilia Rodriguez. La nuova prova decisa dal grande fratello e che ha coinvolto il suo nuovo fidanzato Ignazio Moser. Ed Ivana Marazzova, facendo emergere per la prima volta la vera gelosia della modella argentina. Sorella di Belen, che si fatta sentire con la collega ed altra concorrente del GF VIP lasciandole intendere che il suo Ignazio non si tocca. Ma cosa successo? Ha ormai poche settimane dall'attesissima finale. Per aggiungere un po' di pepe alle giornate a volte un po' troppo monotone per gli inquilini del GF VIP, stato chiesto ad Ignazio Moser di indossare un paio di guantoni da pugile e a Ivana di seguirlo a vivere a stretto contatto con lui per aiutarlo e assisterlo in ogni momento della giornata. Eccos la Marazzova ha aiutato Moser a mangiare, a grattarsi, a pettinarsi e perfino a farsi la doccia. E a quanto pare Ignazio ha pensato bene di approfittarne e farsi lavare da Ivana. Scatenando per l'immediata reazione di Cecilia Rodriguez. Gelosissima del suo nuovo amore per il quale ha interrotto una storia durata ben quattro anni. La doccia bollente di Ignazio e di Ivana fa esplodere Cecilia la sorellina di Belen non ha resistito. Nel vedere la Marazzova cospargere di sapone il corpo scultore o di Moser e indispettita ha reagito. Con una velata minaccia dicendogli. Tu stasera dormi da solo. Anzi, dormi con la ciccia. Appellativo usato nella casa per la modella cieca. Avvicinandosi a Cecilia, Ivana ha cercato di sdrammatizzare. Spiegandole che si trattata solo di una doccia divertente e nulla pima. Probabilmente memore del fatto che nel primo periodo del reality Moser e la Marazzova erano molto vicini e che il pubblico sempre stato desideroso di vederli insieme. Ha risposto in modo piccato dicendole. Ma sarà stata divertente per te. Ti vorrei vedere a te. Se ti toccassero tutto il tuo fidanzato. Cecilia Rodriguez davvero innamorata. La reazione gelosa ma la Rodriguez non si fermata qui per poco dopo il grande fratello ha creato. Un nuovo accoppiamento a suon di Guantoni. Scegliendo proprio Cecilia e Luca Onestini. A quel punto intervenuto Ignazio avvisandolo con un comportati a modo. Provocando per una nuova reazione della fidanzata. Senza peli sulla lingua. Che cu. Tra il serio e lo scherzoso. Gli ha detto. Hai la faccia come il tu puoi fare la doccia con lei e io non posso accompagnare Luca in bagno. Gli tiro oggi i pantaloni. Mica gli tengo il maleducato tu. Che ti fai toccare cos. Mi auguro di uscire luned. Cos resti qua rinchiuso. Vorrei vedere te. In quella scena. Io non ho fatto la doccia a Luca. Io sono rispettosa. Non come te. Insomma la situazione nella casa davvero caliente e i giochi del grande fratello potrebbero mettere zizzagna tra Ignazio e Cecilia. Rischiando addirittura di portarli al litigio. Altro su MSN. Grande fratello VIP. La verità sulla scena dello scandalo di Ignazio e Cecilia. Mediaset. Sponsorizzato. Risparmi a 137. Nuovo Surface Pro in promozione con cover type più Surface Mouse inclusi. Compra maggiore maggiore. Scenzi. Grazie a tutti.